Paese, oggi non è venuto al mare, a Margherita, a fare un bagno di compagna facilmente fuori, non raffresciamo tutto il cuore non passiamo una giornata diversa, che poi non è manco lontano da venuto un'oretta di strada, tre quarti d'ora con la macchina e si arriva ma almeno, sempre di nuovo da mare, doveva fare una mangiata in un ristorante, pesce, poi musica, tranquillità e uno dice, che vuoi fare? Ma mi piace quest'anno posto, adottorazzo, in un rito, clamato, un ombrellone, due lettini, oggi a me ne hanno dato pure tre lettini, cinque euro, ecco io ti ho regalato e noi ne preoccupiamo non ci siamo qua, non ci siamo da non ci siamo qua, non ci siamo qua, ma non ci siamo qua questo paranghe e cumparesce è buono, ma qui è una favola perché c'è il problema broncopolmonare la salsetina, lo io odio insomma, sono dei toccasani che fanno veramente buono alla salute eh? e qui se ne vanno a H7, H7 dove? boh! oggi il mare sta incazzata e aggiatata e i bagnini qua oggi che non fate che norma perché la gente è un po' spericolata se ne è zera furosumonata vuoi vedere come ho segnalato il cuore andate a fuoco con il mare per te rienti è un trattatore sta nelle onde oggi è pericoloso lo facciamo e allora bisogna stare attenti perché ora viene per passare una giornata in tranquillità e se lo trova un campo santo sai quanta gente annecchina perché sono pericolati e allora bisogna stare molto attenti ora devono divertirsi se non andare a morire perché l'acqua di mare quando stanno le onde ti sentono un po' da fuoco e poi ti succhiere e non ce la fai più a tornare a... arriva uno dice che arriva non arriva nessuno però chiaramente arriva la morte se non si stia attenti che facciate scelta il pulito facciate il pulito facciate il pulito nessuno può mettere conto e nessuno deve mettere conto però io penso che tu quando sei annullato e paghi cinque euro macchina un brollone e due lettini ma che vuoi trovare una torta e una vespura eh? insomma dai bisogna pure capire che sono periti tristi per tutti però sono capace a farsi quattro conto ma la mente non è è buono il posto l'acqua è buona la gente si sente un po' più sicura perché la distanza degli ombrelloni è abbastanza è abbastanza omogenea e se potete stare pure in tranquillità insomma un po' più tranquillo puoi farlo fino a venousi poi a margherita poi a dovuti e poi alla fine stai tranquillo beh buona giornata a tutti e buona vita buona giornata a tutti buona giornata a tutti ciao ciao